grandine, leve, pioggia, un fulmine, le fulmine andiamo qui, via via, tutto contro dobbiamo avere, tutto contro, intanto è un paese, abbiamo visto la Grecia, la Grecia è fallita, noi abbiamo un debito per 71, i nostri dati sono incredibili, 1800 miliardi di euro ogni due giorni, il nostro debito è nessuno, allora se sei fallito, non sei fallito, non sei fallito,